siamo in ritardo per il party delle principesse dobbiamo chiamare christian ciao ciao chris abbiamo bisogno del tuo aiuto ok Ta-da! Ta-da! Sei bellissima! Ciao! Siediti, principessa! Siamo pronte! Siamo arrivati! Ciao! Ci serve un nuovo parco giochi! Vroom, vroom, vroom! Ciao! Alice ha bisogno di un nuovo parco giochi! Aspai! Vroom, 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 vroom! Oh, è bellissimo! Andiamo! Ah, ah! Oh! una, due grazie mille mi servono mobili e giocattoli per la mia bimba ciao Chris ci serve una nuova cameretta per Alice ok ok tantissimi giocattoli oops ok la cameretta è pronta wow oh guarda è bellissima ti piace anche a me grazie Chris la cameretta è bellissima una vera principessa ciao ciao voglio il gelato mamma mamma buona idea facciamo un gelato salutare ci serve della frutta fresca ok mamma ciao 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 Ananas Fragola Anguria Kiwi Dobbiamo metterlo in freezer Ok 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 Il gelato è pronto! Delizioso! Mi piace il gelato sano! Il gelato è pronto!